Il mito dell'artista maledetto, autodistruttivo, anarchico dentro di te c'è? Questo è il mito, questa è una delle prerogative in generale dell'artista, che non sia troppo rembodiano però, che medi anche ogni tanto con le qualità della ragione, perché è anche giusto, però l'artista nella sua libertà assoluta è per forza, vedo di Andrè, quando pensa di Andrè per me, lui è il massimo esempio proprio di vita e di arte, lui era un anarchico, poteva essere solo uno che non poteva credere a nessun tipo di potere, e attenzione, qui nasce una confusione tra poeta e politico, perché il poeta non può parlare da politico, quando chiedono a me di fare una discussione politica, canno sempre vergognosamente, perché davanti alle situazioni reali, alla realtà, molto spesso sono in torto, cioè non posso rispondere perfettamente a cosa devo fare in questa situazione, se veniste a chiedere a me che cosa dovremmo fare in Libia, cannerai completamente, ma che cannano anche gli altri, però io cannerai molto di più, perché non avrei nessunissime risposte, ne avrei una emozionale, che posso mettere in una canzone, quando, e tu lo sai benissimo, io ho scritto la canzone Maricca, te la ricordi no? Maricca era una storia che non parlava di nazioni o altro, volevo chiedermi come mai una ragazza di vent'anni si mettesse della Dinuita addosso e facesse scoppiare in un bar, una kamikaze palestinese, è venuto giù il mondo per quella canzone, il mondo braico che io adoro, amo per tutte le sofferenze, eccetera, ho dovuto parlare con tutti per far capire che non ce l'avevo, era semplicemente una ricerca su una persona, non volevo dare ragione a questa persona, perché il mondo del poeta che entra nell'anima delle cose è parecchio differente dal mondo della realtà, della prassi politica, e quindi non chiamate, un poeta si fa per dire, un costruttore di versi, non chiamatelo in trasmissioni come Annozero o altro a parlare, perché dirà cose che sono un po' fuori dalle righe, perché il poeta è fondamentalmente anarchico, è libero da tutte le strettoni e pastori e tutto quanto, il musicista è fondamentalmente anarchico, scrive quello che sente, quello che gli viene, ed è giusto che sia così, può essere giudicato, va bene, questa sua anarchia avrà un valore e un prezzo anche dal punto di vista politico, io sono fondamentalmente anarchico, anche se il mio concetto di mondo si basa sul fatto che esiste una specie di imprimatur nell'anima di ogni uomo, da Tiberi a Caio Gracco fino ad Obama e anche oltre, che è di centrosinistra, io ho questo concetto, anche essendo anarchico. Grazie.